Pasta al pomodoro e carne alla griglia, tutto condito da tanto impegno per difendere il posto di lavoro. Una Pasqua di lotta per gli operai della Grandi Molini di Livorno, in presidio da due settimane davanti ai cancelli dell'azienda contro i 17 licenziamenti annunciati. Insieme a loro il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che ha deciso di partecipare al pranzo di Pasqua con gli operai, come simbolo di tutte le vertenze aperte nella nostra regione. Qui è possibile trovare un accordo, purché si adotti lo strumento della cassa integrazione e i cosiddetti esuberi, i 17 lavoratori che devono essere licenziati, siano licenziati e ritrovino un'occupazione nel corso di un anno. Questa è la proposta che fanno i sindacati, la proposta che facciamo anche come regione, la sosteniamo. C'è un incontro che abbiamo chiesto anche al Ministero dello Sviluppo Economico il 20 e lì ci auguriamo davvero che ci si possa capire, dialogare. A fare visita agli operai anche il vescovo di Livorno Simone Giusti, il sindaco Filippo Nogarin, il consigliare per il lavoro del presidente Rossi Gianfranco Simoncini, il consigliare regionale Francesco Gazzetti, i sindacati. Il presidente Rossi ha voluto ricordare che anche a Piombino gli operai di Aferpi continuano la loro lotta insieme al sindaco occupando il comune oramai da due settimane. Il lavoro è la questione fondamentale, è al centro delle preoccupazioni, bisogna che tra capitale e lavoro si riapra un dialogo costruttivo, che il lavoro non sia umiliato, che il lavoro non sia bistrattato, che il lavoro non sia considerata soltanto una merce come purtroppo da troppo tempo avviene. E quindi la Pasqua è una buona occasione per dire queste cose. Venerdì scorso si è tenuto l'ultimo incontro per l'avvertenza Grandi Molini, dove l'azienda ha confermato i licenziamenti e ha abbandonato il tavolo. Prossimo appuntamento il 20 aprile al Ministero dello Sviluppo Economico, dove ci sarà un altro incontro per discutere dell'avvertenza Grandi Molini.